Buongiorno a tutti, ben ritrovati, spero che la prima parte di pranzi, cene, festeggiamenti sia andata bene. Piccola pausa oggi per poi rilanciarci, nei prossimi giorni, chissà, dovremo poi fare i conti con le nostre calorie messe da parte. La Envy News di oggi, l'ultima della settimana, la dedico a una notizia che non troverete in rete, e si tratta di un ordine del giorno presentato il 23 di dicembre alla Camera dall'Onorevole Rossella Muroni per chiedere un emendamento, un decreto ministeriale del Ministero della Salute che in buona sostanza dice che chi vende detergenti per l'uomo, la donna, per usi personali, in modo sfuso e che smezza e quindi ha per esempio in un negozio una tanica da 5 litri e confeziona sul momento delle parti più piccoline da mezzo litro, ad esempio, oppure chi ha un sapone solido in pani e lo taglia, lo confeziona, lo etichetta e lo vende porzionato, o un hotel che ha le ricariche e quindi nel magazzino sotto ha una tanica più grande e le ricariche. Tutte queste modalità di erogazione di una parte di un prodotto viene equiparato a un produttore di cosmetici e dobbiamo sapere che il produttore di cosmetici deve sottostare alla legislazione, alla legislazione sulla salute e a tutta una serie di obblighi amministrativi burocratici di cui sottostare con la messa a norma dei locali, giustamente per garantire una sicurezza sanitaria per il consumatore. Cosa succede? Che con l'applicazione di questo decreto chi appunto porziona sul momento... Ciao Maurizio! Chi porziona sul momento i detergenti deve fare le stesse cose. Morale della favola, già stanno circolando delle circolari dell'associazione di categoria che mettono in guardia da controlli dei NAS, dei NOE, dell'ARPA o di chi è deputato a controllare, guardia di finanza e sconsigliano di vendere sotto forma sfusa e quindi sconsigliano di ricorrere allo sfuso ma di tornare al monoporzionato per evitare sanzioni e difficoltà burocratiche. L'onorevole Muroni ha presentato un ordine del giorno che impegna il governo a emendare questa norma, questo decreto ministeriale e ministeriali, Grazie per la visione! Grazie a tutti. Buona giornata, buon weekend, ci vediamo lunedì.